Battle Royale, parliamo di Battle Royale diretto da Kinji Fukasaku del 2000, film del 2000 il film parla, è una serie veramente particolare parla della società, insomma, di questo governo giapponese che è un po' assurda, un po' surreale ci sono i soliti problemi economici poi dopo vediamo perché i soliti, perché ci sono altri film simili e tutto parte sempre da crisi economiche mancanza di lavoro, eccetera ma in questo film in qualche maniera si attribuisce il problema della società alla disciplina, alla mancanza di disciplina da parte dei giovani studenti e quindi viene creata adesso vi leggo come si chiama una legge vediamo se è scritto qua la Millennium Educational Reform Act abbreviata con BR Act che praticamente prevede che vengano prelevati in maniera randomica degli studenti messi su un'isola studenti della stessa scuola, della stessa classe messi su un'isola e praticamente lì partirà un Battle Royale esattamente come in Fortnite cioè tutti e lì poi capite perché Fortnite si chiama Battle Royale e praticamente su quest'isola tutti devono ammazzare gli altri studenti e ne rimane solo uno esattamente come accade in Fortnite perché? è una sorta di punizione non si capisce bene questa riforma che cazzo di effetti può avere in realtà non è quello poi il significato importante praticamente l'alternanza scuola-lavoro esatto non è in realtà importante questo il fatto che come idea sia un'idea del cazzo fondamentalmente in realtà dietro a quest'idea fantasiosa chiaramente è fantapolitica non so come dire è fanta non lo so fantariforma scolastica non lo so comunque c'è un conflitto tra adulti e ragazzi insomma e adolescenti e poi capiremo perché vediamoci il trailer prima di tutto poi torniamo sulla trama e poi parliamo delle cose che sono meravigliose di questo film perfetto chiaramente è un film che adesso risulta un pochino all'acqua di rose come all'acqua di rose questi vanno sono ragazzi adolescenti vengono messi lì che sono costretti ad ammazzarsi sì è all'acqua di rose perché 22 anni dopo quasi 23 ne abbiamo viste di cose che appunto sono anche ispirate a questo sono ispirate a questa violenza questa messa in scena e quindi il film non risulterà così tanto forte secondo me e oltre al fatto che comunque è rappresentato anche in modo abbastanza comico anche se questo trailer privilegia diciamo il lato oscuro del film ma ci sono anche delle situazioni molto giocose molto comiche perché in effetti la rappresentazione di battle royale è è veramente un'allegoria di un episodio di una cosa che interessa all'autore vagamente dà la sensazione di essere un po' un sogno perché ci sono appunto dei momenti comici delle cose un po' assurde ma non perché la trama sembra una cosa insomma che non torna ma proprio perché è abbastanza comico in certi punti intanto vi voglio dire questo che ne stiamo parlando proprio perché è partita una start up una sorta di kickstarter per l'edizione 4k perché appena è stato rimasterizzato in 4k uscirà un'edizione con il primo film e il secondo film con cg entertainer quindi se volete partecipare alla start up andate sul sito di cg e trovate insomma la pagina dove potete iscrivervi alla start up e avere la vostra edizione figa di questo film in più è stato anche portato al cinema quindi potrete andate a vedere dove quando come perché io adesso non ho sotto mano queste informazioni comunque uscirà il cinema la versione restaurata quindi io penso che siano operazioni fighe perché i film ci sono ma purtroppo i film finiscono un po' nel dimenticatoio prima vi voglio dire che il regista decise di una cosa che ho scoperto leggendo informandomi che decise di girare questo film e che mi ha un po' aperto la mente su tutto il film cioè senza sapere questa roba sì potete intuire delle cose ma qua vi veramente diventa tutto chiaro decise di dirigere il film perché il romanzo che aveva adattato gli ricordava il suo periodo da operaio quando a 15 anni durante la seconda guerra mondiale a quel tempo la sua classe venne fatta lavorare durante appunto perché c'era la guerra venne fatta lavorare in una fabbrica di munizioni e venne bombardata ovviamente morirono una marea di suoi compagni di classe e loro furono costretti anche a disporre i cadaveri insomma in quelle situazioni non importa se sei un ragazzino che ti tocca fare cose dal costruire i proiettili al radunare i cadaveri dei tuoi amici dopo un bombardamento Fukasaku scusate lo devo leggere perché mi dimentico sempre come si dice fece un'elaborazione semplice cioè il governo prende e ci manda a noi ragazzini a fare le munizioni e noi finiamo morti e lui ha tradotto questa cosa in adulti contro giovani cioè tu adulto dovresti proteggermi dovresti investire su di me dovresti insomma io mi fido di te tu sei l'adulto quindi governo tu adulto e governo dovresti proteggermi e invece te ne fotti te ne sbatti e quindi guardando se guardate il film se conoscete il film potete immaginare che tutto questo si adatta perfettamente al al suo sentito al suo modo di vedere le cose è molto curioso perché in realtà lui non ha scritto il romanzo quindi lui si è si è riconosciuto tanto in questo romanzo e ha riconosciuto quell'episodio probabilmente e ci ha insomma è come se si avesse sentito sembra assurdo dirlo perché è l'opposto una chiamata alle armi per dire questo è il mio momento questo libro deve diventare un film e devo farlo io perché ho subito questa cosa e infatti poi lì abbiamo un governo che crea una situazione di pericolo per i ragazzi senza alcun motivo fondamentalmente senza ragione esattamente come è capitato a lui ed è un film che anche se scherza ed è violento ed è un po' action è anche molto toccante è una cosa bella che accade nel film come potete immaginare loro vengono istruiti sono spaesati vengono istruiti su quelle che sono le regole gli viene data un'arma e vengono buttati gli dicono allora andate correte nell'isola sparpagliatevi e fatevi fuori quando vi incontrate ovviamente accade c'è anche un particolare molto curioso che è quello dell'assegnazione delle armi a tutti viene dato uno zaino con del cibo dell'acqua e un'arma e però le armi non sono tutte uguali c'è chi ha avuto un mitra chi ha avuto una granata chi ha avuto un coperchio di una pentola e questa è una secondo me insomma io ci ho visto un'allegoria un po' anche della condizione umana cioè nella condizione umana non siamo tutti non partiamo tutti pari quindi le cose accadono uguali ci piombano come la guerra la pandemia tante cose ci accadono e sono troppo grosse per noi ma gli strumenti che abbiamo non sono paritari c'è chi parte con meno e c'è chi parte con più e quindi questo rappresenta tantissimo il mondo reale il mondo del povero che viene mandato a costruire i proiettili durante la guerra e in frico sicuramente no se mi sono spiegato grazie ad Alca che hai messo il link della start up in chat grazie mille tanti film che sono sono così sono battle royale sono gioca e muori gioca per sopravvivere ed esci vivo o morto queste sono le regole di questo tipo di giochi li definirei death match anche no li conosciamo ma poi il film si sviluppa bene perché inizia a raccontarti la 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 profondità dei personaggi le loro relazioni loro erano tutti amici in un modo o nell'altro c'era chi era innamorato della ragazza l'altra ragazza di un altro insomma c'erano delle relazioni belle importanti e il film le evidenzia e quindi quando noi inizieremo a voler bene o comunque a empatizzare con i personaggi questi verranno fatti fuori quindi è bravo in quel senso a iniziare proprio a farteli stare simpatici per poi appunto farti soffrire nel vedere nel vedere che fine fanno anche se ci sono scene di violenza sono teste tagliate spruzze di sangue non lo so forse io sono un po' troppo abituato e quindi forse per me non è così così forte come effetto però io l'ho trovato abbastanza anche pittoresco nel rappresentare la morte quindi non lo trovo così crudo da guardare però è un film con tante scene di violenza di amputazioni sparatorie gente ammazzata in tutti i modi quindi chiaramente non è per tutti se non siete abituati però non è neanche un film che io considero estremo perché non ha quell'aura cupa che rende comunque le scene di violenza molto più difficili da digerire da supportare ecco io credo che insieme all'atto di violenza immaginate uno splatter di Peter Jackson o film del genere è comico quindi tutto quello che vedete fa abbastanza ridere ecco questo è un film un po' così la violenza la vediamo c'è ma è anche molto teatrale poi loro comunque recitano in modo molto teatrale ovviamente a impreziosire il film c'è Chitano io amo tantissimo come regista e come attore qui vi dico che è uno dei miei film di cui sono innamorato perso proprio io lo amo a me mi si spezza il cuore in due e in quattro in sette in otto in mille quando lo vedo lo rivedo amo quel film di Chitano è l'estate di Kikujiro io amo quel film amo lui come regista è un idolo un idolo per me bravissimo come attore è un po' difficile da spiegare perché Chitano quando uno quando uno dice è un attore che recita in sottrazione cioè che recita con pochi gesti con andando a limare a togliere non a aumentare cerca di trovare la perfezione togliendo cose non ecco quando si dice recitare in sottrazione con Chitano proprio neufemismo perché proprio cioè sembra una statua di pietra quando recita però lui secondo me è il capo assoluto della recitazione in questo senso cioè della micro recitazione lui è talmente statuario sapete che Chitano ha un tic no? ha un tic che gli fa chiudere l'occhio ecco lui è talmente statuario che quando fa così con l'occhio cazzo ti viene fa l'effetto jump scare cazzo è talmente immobile la sua faccia che quando fa il tic tu cazzo salti dalla poltrona però io penso che lui in un modo allora a lui viene sempre chiesta e da solo si attribuisce anche questo ruolo nei suoi film più o meno di fare se stesso cioè lui fa se stesso e gli viene chiesto di fare se stesso quindi lui ha un personaggio che è praticamente unico con delle sfumature però ha un impatto nei film che è incredibile è un personaggio affascinante quindi non lo metti sul piano di altri attori che sono più capaci di mutare cambiare fare cose particolari però appunto in questo film spacca come al solito è un personaggio fortissimo della pellicola importante perché c'è un particolare rapporto tra il professore e gli studenti è un rapporto che in realtà non è un rapporto di odio perché è lui che gli dice le regole del non è un rapporto di odio però è anche un carnefice lui quindi è un rapporto conflittuale come potrebbe esserci appunto e nel film viene evidenziato un rapporto conflittuale con i propri figli quando sono grandi che si fa fatica a comunicare si fa fatica a non litigare ci sono tante tante problematiche di questo tipo voglio dire una cosa su sul sul mondo dei film deathmatch insomma battle royale partecipa al gioco mortale che arriva alla fine e vinci se vinci i soldi o vince la vita c'è un po' questo atteggiamento di di sentirsi degli eroi perché si cita il capolavoro si cita il regista si cita c'è sempre questa dinamica nei social quando è uscito squid game tutti hanno diciamo squid game è stato un po' schizzato dagli espertoni di cinema perché ah ma perché non è una novità non è una novità non hanno inventato nulla e quindi è una cagata questa è la reazione tipica in cui posso cascare anch'io quando appunto la roba viene osannata e invece uno dice no ma guarda che c'era già cioè non è l'ideona allora qua secondo me bisogna fare un passo indietro cioè squid game allora se un giovane vede squid game e dice ma che figata d'idea come possiamo biasimarlo come possiamo biasimarlo come possiamo dirgli no sei un coglione perché non conoscevi battle royale come possiamo è un giovane non è che può sapere tutto a 15 anni a 16 anni no quindi già ci siamo risposti quindi se lui dice che figata quest'idea del battle royale possiamo solo dirgli si hai ragione è un'idea figa possiamo poi aggiungere sappi che è già stata usata in altri film ora tutti citavano battle royale e altri film perché perché sono asiatici quindi squid game sono asiatici battle royale ma non è vero che l'idea del gioco mortale nasce con battle royale vi faccio un esempio poi probabilmente ce ne sono tante altre tante sfumature un esempio che ricordate tutti anzi quasi quasi vi metto il trailer un film che tra l'altro io ho sempre apprezzato perché mi piaceva l'idea mi piaceva sicuramente tratto da qualche libro eccetera apri gli occhi sei fregato sai una cosa hai la tendenza e vi dico che sia questo film che state per vedere qualcuno ha già visto che cos'è perché c'era la copertina che battle royale che squid game tutti e tre partono con una premessa che è la premessa del disagio sociale legato a un'economia in crisi quindi tutti quanti partono da quelle tendenze a vedere tutto nero running man gli inarrestabili sterminatori del network danno ai criminali e ai nemici dello stato che esattano praticamente la premessa in running man detto anche l'implacabile con Schwarzenegger nella spiegazione della storia è che per tenere buono una popolazione che ha problemi appunto importanti creano un gioco iper violento e molto affascinante che li rimbambisce tenendoli tenendoli davanti al televisore quindi creano appunto questo gioco mortale allora che cosa vi voglio dire ci sono questi tre film ma poi ce ne sono anche altri questi tre film con il con il gioco mortale qua il problema non è ah ma l'idea è di un altro l'hanno già fatto è presa da qui è presa da là il punto è che qua siamo di fronte come spesso accade proprio a tre esempi di come la stessa idea racconta tre cose diverse perché in Running Man si parla di una popolazione attratta dalla violenza che io anestetizzo mediaticamente tramite una trasmissione iper violenta è un film action thriller che parla parla di questo ed è interessante il fatto che crea un futuro distopico in questo senso qua un futuro della manipolazione mediatica dove le persone sono insensibili di fronte alla morte che vedono quindi il tema è figo dell'implacabile in Battle Royale viene fatta un'accusa nei confronti del mondo adulto del mondo del governo c'è una storia anche personale dietro ed è un altro tema mentre in Squid Game c'è un tema che è molto attuale che è il tema dell'indebitamento dell'indebitamento che avviene alle persone della Sud Corea perché c'è un sistema per cui loro i sudcoreani questo lo so perché l'ho letto quando era uscito il caso e tutto volevo sapere un po' a cosa si ispirava poi se guardate Squid Game capite che effettivamente è così perché viene appunto specificato insomma c'è un po' quello che accadeva anche negli Stati Uniti o che accade ancora non lo so bene che è questa questa questione di poter accedere a una serie di crediti carte di credito far credito a destra e manca con interessi altissimi la gente si indebita in un modo allucinante perché è povera e finisce per poi perdere la speranza del futuro una volta che tu sei indebitato per migliaia e migliaia di euro dico perché non so quale sia la moneta della Sud Corea tu praticamente sei già morto sei già morto e questo è un tema che non c'entra niente con con la critica al governo le istituzioni agli adulti al mondo adulto che c'è in Battle Royale e non c'entra niente con la manipolazione mediatica che c'è nell'implacabile qui c'è un bellissimo tema che è quello appunto del suicidio praticamente tu ammazzi la tua idea di te nel futuro perché ti sei indemitato così tanto che sei senza speranza motivo per cui sei disposto a partecipare a Squid Game cioè io capisco perché partecipi a Squid Game e rischi la vita perché non puoi vivere con l'idea di non esistere nel futuro cioè che il tuo futuro è o in galera perché non puoi pagare i conti o ammazzato da qualcuno perché per qualsiasi ragione perché a quel punto sei un delinquente quindi il tuo futuro te lo sei già ti sei già suicidato quindi arriva Squid Game e ti dice hai una speranza devi vincere e vincerai questa palla piena di soldi che sono così tanti che anche tu potresti pagare i tuoi debiti e vivere ricchissimo quindi è normale che uno faccia cioè uno dice ma Squid Game è assurdo no non è assurdo non è assurdo per un cazzo perché quando arrivi a quei livelli lì ti sei tolto tutto ti hanno tolto tutto e rimane solo quello quindi sono tre film con la stessa idea ma che parla di tre cose diverse state lontani da quelli che cercano sempre di associare un film all'altro con dei piccoli collegamenti la trama il plot un pezzettino di cosa una scena perché sono degli stolti non hanno idea del fatto che tu puoi avere due trame quasi identiche e raccontare due cose diverse quindi questo è il bello di questi tre film chiaramente a livello qualitativo a livello artistico Battle Royale è quello superiore a tutti perché Squid Game è una serie che gode anche di tutti i fantastici problemi che hanno le serie tv però ne parliamo più avanti diciamo che per quanto riguarda Battle Royale ovviamente è un gran bel film quindi prendetevi prendetevi l'edizione e andate al cinema a vederlo perché secondo me il cinema è stradivertente con gli amici è tutto è stradivertente Grazie.